3 dicembre 1857 nasce Joseph Conrad, scrittore polacco. Considerato uno dei maggiori scrittori moderni, è stato capace, grazie a un ricchissimo linguaggio, e nonostante la lingua inglese fosse la sua terza lingua, dopo quella polacca e quella francese, di ricreare in maniera magistrale atmosfere esotiche e riflettere i dubbi dell'animo umano nel confronto con terre selvagge. I suoi romanzi sono tuttora molto letti, ma il suo capolavoro resta il controverso Cuore di Tenebra, racconto famoso anche per essere stato l'ispiratore della storia del film di Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, ambientato nel periodo della guerra del Vietnam. Grazie a tutti!